Intentare IRCSA a mio parere significa innanzitutto un riconoscimento del valore, della qualità delle prestazioni che vengono già attualmente erogate in questa struttura. Comporterà un maggior impegno, comporterà però anche più risorse per fare sperimentazioni, per fare ricerca e questo ospedale vede la presenza di un felice connubio fra università e mondo ospedaliero per cui io sono confidente che l'IRCSA saprà trarre, da trasformazione in IRCSA, sarà foriera di ulteriore miglioramento della qualità attraverso la messa a frutto della ricerca che verrà fatta qui dentro e quindi sicuramente sarà un vantaggio. Sarà un vantaggio per il territorio. L'idea di costruire un IRCSA che non sia come dire una moneda isolata ma che mantenga questi legami con il territorio e verranno sviluppate delle progettualità ovviamente in questo senso di intesa con regione e l'interna programmazione regionale però diventare IRCSA non significa fare solo ricerca ma significa fare ricerca perché venga messa a disposizione dell'ospedale in primis del territorio e quindi della salute della popolazione di riferimento.